Saranno dedicati al trasporto di circa 2000 pasti prodotti ogni giorno dalle nove cucine comunali in cui si struttura il servizio di refezione scolastica del comune di Fano. Sono i nuovi furgoni in tutto sei interamente elettrici che partiranno giornalmente dalla piattaforma di falcineto con frutta verdure e altre derrate senza inquinare e nel rispetto dell'ambiente. Sono stati presentati questa mattina nei giardini della scuola primaria Corridoni e rappresentano una delle più significative novità previste dalla gara bandita nel 2020 dal comune di Fano per la refezione scolastica vinta dalla ditta Dusman. I furgoni Nissan sono dotati di un'autonomia di circa 300 chilometri e di una capacità di carico di circa 740 chili. Per ogni mezzo si stima una percorrenza media di circa 1000 chilometri al mese e quindi complessivamente di circa 60.000 chilometri per l'intera flotta nel corso di un anno scolastico. Distanze queste che da oggi saranno garantite utilizzando esclusivamente l'energia elettrica con il totale azzeramento di emissioni inquinanti per l'ambiente. Già in questi anni il servizio di refezione scolastica di Fano ha avuto una serie di riconoscimenti importanti anche a livello nazionale per la qualità del servizio in particolare del menù. Adesso facciamo un ulteriore passo in avanti, il comune di Fano e Dusman, la ditta che ha vinto l'appalto di gestione dei servizi di refezione, perché abbiamo rinnovato l'intera flotta dei furgoni per il trasporto dei 2000 pasti che ogni giorno le nuove cucine comunali producono e sono sei furgoni completamente elettrici. Non è cosa da poco, solo qualche numero, stiamo parlando del trasporto nel corso di un anno scolastico di quasi mezzo milione di pasti su oltre 30 scuole per una percorrenza di oltre 60.000 km, 60.000 km che a partire da oggi saranno emissione zero, proprio per questa scelta ecosostenibile sull'elettrico che qualifica ulteriormente un servizio già all'avanguardia. Nel rispetto dell'ambiente è un passo in avanti sia per il comune di Fano sia per la nostra azienda che comunque presenta questi mezzi innovativi. In più la novità di quest'anno è anche che oltre alla distribuzione di pasti veicolati che vengono prodotti nelle cucine e poi trasportate a sua volta nelle scuole di tutta Fano, vengono trasportate anche le derrate, quindi noi trasportiamo le derrate dalla nostra piattaforma che si trova in via Falcinetto, quindi al comune di Fano, vengono trasportate le derrate elementari, quindi diciamo la frutta, la verdura, pasta, pomodoro, olio eccetera, quindi diciamo che ha un doppio vantaggio, inquinamento zero, quindi siamo molto contenti e orgogliosi di questa cosa.